Ciao, sono io, sempre, no, ah, me, noi, meno, ah no, sì, sono sempre Elia, oggi andremo a vedere di nuovo se su YouTube c'è qualcosa. Andiamo a vedere, bambino napoletano, ma, guardiamo? Ma, ha trovato anche il secondo di pallone, eh, sono tutti lì dentro, ora guardo se magari, per caso, ne trovo altri. Eh sì, il bombo bom bom è proprio direttamente proporzionale al tuo fisico, alla tua, non lo so. Poi, una bella canzone, perché, insomma, eh, molto, molte parole, sai, tipo, Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Eh, anche stavolta senza parole, io non so più proprio cosa fare, come fare e perché farlo, capite? L'esperazione. Ciao, vi saluto da qui, da Prato, sempre da me, anzi no, io, voi, me non ho, aspetta, ah sì, no, sono sempre io Elia, o me, va bene, insomma, avete capito, ciao.